Mi sono occupata di sismo tettonica, dove per sismo tettonica si intende l'individuazione di quelle sorgenti sismogenetiche che interessano il territorio italiano. Una sorgente sismogenetica cos'è? È una faglia, una faglia attiva, una faglia in grado di generare terremoti. Noi prendiamo in considerazione terremoti da magnitudo 5.5 in su. Per quale motivo? È perché soltanto da quella magnitudo sono riconoscibili dal punto di vista geologico, hanno degli effetti sul terreno riconoscibili dal geologo, è perché terremoti di quella magnitudo cominciano ad avere degli effetti molto importanti anche sul patrimonio edilizio e le opere dell'uomo in Italia, per via di come sono costruite le case in Italia. Quindi ci interessiamo esclusivamente di terremoti da magnitudo 5.5 in su e delle faglie che li hanno generati. L'individuazione di queste sorgenti sismogenetiche in Italia è essenziale perché permettono di avere delle informazioni sui terremoti e sullo scuotimento che generano i terremoti, per cui sono essenziali dal punto di vista degli studi di pericolosità sismica. Io ho portato l'esperienza della Toscana, io lavoro all'interno della regione toscana e ho portato avanti le attività che sono state realizzate sul territorio toscano in termini di rischio sismico, a partire dalla pericolosità sismica di base, che è lo studio delle aree in cui si possono verificare eventi sismici, soprattutto laddove ci sono più eventi sismici frequenti, e per poi arrivare alla definizione del rischio, il rischio che è stato il filone conduttore di questo convegno, che è un tema abbastanza particolare e abbastanza importante, perché la definizione del rischio sismo, cioè sapere esattamente le nostre edifici, le nostre aree su cui abitiamo e su cui viviamo, quali sono effettivamente i livelli di rischio maggiori rispetto ad altri, per fare questo bisogna effettuare uno studio approfondito sul territorio, noi in Toscana abbiamo cercato di approfondire tutti quelli che sono gli studi, le attività sia in materia di pericolosità, sia soprattutto in materia di rischio, per poi impostare una pianificazione territoriale attraverso l'implementazione degli strumenti urbanistici. La Toscana è già da molti anni prima rispetto all'impostazione degli indirizzi e criteri di microzonazione di sismica nazionale, che ha attuato sul proprio territorio una politica di questo tipo, basti pensare che già dal 1997 è nato un programma, un progetto regionale, che è chiamato Velle, valutazione effetti locali, che è stato incardinato all'interno di una legge, che è quella Toscana, la legge 56-97, che è stata la prima e unica, direi ad oggi, legge nazionale, che è nata in un momento di inassenza di terremoti, quindi in un momento di tranquillità. Per la riduzione del rischio sismico, una delle attività fondamentali è conoscere la pericolosità sismica di una certa regione. In particolare, nel mio contributo, ho descritto la situazione nella regione Lazio. Questa grandezza, la pericolosità sismica, che dà un'idea del grado di severità dei terremoti, può essere rappresentata attraverso delle cartografie. La cartografia è uno strumento che rende utile a comprendere proprio il fenomeno. Proprio con i colori, con il rosso, indichiamo le aree più sismiche, in termini di accelerazione, le aree in cui si verificano i terremoti principali nel Lazio, per arrivare poi alla classificazione sismica del territorio regionale. Questo si ripercuote poi in un'altra azione per ridurre il rischio sismico, che è l'azione della pianificazione territoriale urbanistica. Cioè, in certe zone, è meglio costruire gli edifici nuovi con certe determinate caratteristiche. Oppure, noi sappiamo, individuiamo poi le aree nel quale il fenomeno terremoto subisce delle amplificazioni. E in queste aree, che abbiamo individuato in queste carte, è meglio evitare di costruire. E questo è utile proprio in fase preventiva. È uno strumento di facile consultazione anche ai non addetti ai lavori. In particolare, nel Lazio, significativa la classificazione del Comune di Roma, che è stato distinto in due classi sotto zone sismiche, quelle che sono a est della città, i municipi che sono a est della città, che risentono la sismicità della vicin'area dei Colli Albani, e quelle che si trovano a Occidente, che invece hanno una minore pericolosità sismica. Quindi, questi studi hanno portato a individuare nel territorio regionale i diversi comuni a diverso grado di pericolosità sismica. Con il 2016, la faliazione superficiale, che è stata associata al terremoto del 30 ottobre, è stata talmente evidente che è diventata di dominio pubblico. La faliazione superficiale è una delle pericolosità associate ai terremoti, oltre ovviamente allo scuotimento sismico. Conoscere l'esatta obbligazione delle faglie capaci, cioè quelle che possono rompere la superficie, è l'obiettivo del catalogo ITACA, che viene gestito dall'ISPRA, e che viene utilizzato dai professionisti nelle attività di microzonazione sismica. Immaginiamo dover costruire una pipeline, un gasdotto, per tracciare la linea di questo gasdotto, è importante conoscere la presenza delle faglie capaci. Oppure immaginiamo tutti gli impianti a rischio di incidente rilevante, è molto importante conoscere la presenza di queste faglie che possono dislocare la superficie. E in generale è importante conoscere la loro presenza per le infrastrutture o anche per le nostre città. Mentre il catalogo risponde alle esigenze della microzonazione di primo livello, per le esigenze della microzonazione di terzo livello risponde soltanto in pochi casi in cui sono state fatte indagini approfondite. Quindi chiudo con un auspicio quello che si possa costituire un gruppo di lavoro anche che coinvolga le università e anche altri enti di ricerca esperti nel settore della sismotettonica per realizzare degli studi di dettaglio che possano essere utili per i professionisti quando devono rispondere alle esigenze della microzonazione sismica. Questo colmerebbe una lacuna presente purtroppo tra i professionisti geologi che non hanno competenze nel campo della paliosismologia per esempio.